Amici Trebimeteo, un saluto da Luca Pace e benvenuti a questo aggiornamento delle previsioni per la giornata di venerdì. L'alta pressione collocata sulla penisola iberica tenderà ad estendersi verso est andando a proteggere anche il nostro paese dove il tempo è in generale miglioramento. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio la nuvolosità attesa per la giornata di venerdì, al nord cieli sereni ovunque, il residuo a nuvolosità invece interesserà le regioni centro-meridionali tra notte e primo mattino, ma anche qui la tendenza è quella al rapido miglioramento. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio la previsione per la giornata di venerdì, come detto, al nord cieli sereni o poco nuvolosi con residue nevicate sulle alpi di confine nel corso del mattino, al centro-sud invece dopo un avvio di giornata variabile con residui piovaschi, in particolar modo nelle estreme regioni meridionali, la tendenza sarà quella a rapidi rasserenamenti. Per quanto riguarda le temperature, queste sono in aumento un po' su tutta Italia con punte di 18-19 gradi al centro-sud. Per questo aggiornamento è tutto, ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.